Ha chiesto di essere processato lontano da Arezzo, dalla città nella quale si sono consumate le violente scorribande che gli vengono contestate. Montana, ventenne, cantante trepper, ritenuto dagli inquirenti capo della baby gang che per due anni ha seminato il terrore tra i giovani e i retini, sarebbe infatti preoccupato per i pregiudizi nei suoi confronti che afferma siano maturati in città. Per questo i suoi avvocati hanno presentato un'istanza in cui si chiede che venga riconosciuta l'incompatibilità ambientale. A decidere saranno i giudici della Cassazione che dovranno valutare se il clima ad Arezzo sia effettivamente tale da causare un condizionamento del procedimento. Secondo i legali, anche le prese di posizione a livello politico avrebbero portato a maturare questo clima. Il giovane, finito in manette lo scorso marzo, è accusato di rapina, estorsione, minacce e lesioni. Adesso si trova ai domiciliari nel nord Italia. È in attesa dell'udienza preliminare presso il Tribunale Aretino, ma il procedimento adesso è sospeso. Sarà determinante la decisione della Cassazione. Solamente una settimana fa, infine, era finito in manette un altro dei componenti della Baby Gang, un giovane che era stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino al suo rientro in Italia da Londra. Grazie a tutti.